Mobili a Megastore. La vostra felicità ci sta a cuore. Ah, guarda che ora c'è fatta per colpo tua, vado a mare tardissimo, uffa! Ma guarda che adesso la benzina c'è, vedrai che tra poco arriviamo in spiaggia. Ma per il navigatore ci vogliono ancora 30 chilometri. Oh, conosco io una scorciatoia, vedrai, in 5 minuti arriviamo in spiaggia. Voi intanto guardatevi le offerte di Mobili a Megastore. Parete in struttura Benguet, con vetrina ad apertura Basistas a soli 840 euro. Cocchia di divani, 3 più 2 posti, a soli 390 euro. Camera da letto con armadio assegnante, comò e comodini, a soli 750 euro. Che puoi pagare fino a 48 mesi a tasso zero, oppure senza anticipo in 60 mesi con prima rada a febbraio 2011. E come regalo puoi scegliere tra TV LCD widescreen, PC portatile, divano 2 posti o per gli sposi un pacco corretto. Oh no, e adesso? Che si fa? Aspetta, senta, cortesemente. Non è che potrebbe farci passare? Ma che fai? Parli con la mucca. Ma l'ho chiuso con cortesia. Ma muoviti e fai qualcosa, che io sto anche amarendo dal caldo. Vieni a goderti, fresco nei centri mobili a Megastore a Caserta Sud. E ora anche a Salerno. Tutti i giorni, domenica compresa.